Pesanti condanne. Otto anni e un mese per il manager della pubblicità Faustino Giacchetto. Cinque anni e otto mesi per l'ex presidente dell'ente di formazione professionale, il Ciapi, Francesco Rigio, avvocato e deputato regionale del gruppo misto. Quattro anni per Stefania Scaduto, segretario di Giacchetto. Tre anni e sei mesi per l'ex dirigente dell'agenzia regionale per l'impiego, Rino Lonigro. E questa la sentenza emessa ieri dai giudici del Tribunale di Palermo sulla truffa al Ciapi. Assolto nel merito per una ipotesi di reato e per prescrizione per un'altra l'ex assessore regionale Luigi Gentile, difeso dall'avvocato Giovanni Rizzuti. Assolta anche la moglie di Giacchetto, concetta argento, disposte con fische milionarie nei confronti di Giacchetto, Rigio è scaduto. Le pene, seppur pesanti, sono inferiori alla richiesta della procura, che ad esempio per Giacchetto aveva chiesto 12 anni. Gli imputati sono stati condannati a risarcire i danni che saranno quantificati in sede civile in favore delle parti civili. La regione siciliana, l'agenzia per le entrate, il Ciapi e Confimpresa Euromed. Il Tribunale ha trasmesso gli atti alla procura regionale della Corte dei Conti per valutare gli eventuali profili di danno erariale. Secondo il procuratore aggiunto Leonardo Agueci e sostituti Pierangelo Padova, Maurizio Agnello, Sergio De Montis e Alessandro Picchi, Giacchetto avrebbe pianificato una megatruffa, creando un sistema illecito per gestire a suo piacimento, grazie alla presunta compiacenza di imprenditori, burocrate e politici, 15 milioni di euro destinati alla comunicazione del progetto Corap. Gli imputati erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere, Giacchetto e Rigio anche di corruzione, truffa e falso in atto pubblico. Le indagini del nucleo di Polizia Tributaria smascherarono un sistema di tangenti che avrebbe ruotato attorno al project manager Giacchetto e una raffica di società, a lui riconducibili laureato in economia, nato a Canicati, Giacchetto negli anni è diventato uno dei massimi esperti nell'intercettare i fondi europei riservati ai piani per la comunicazione. Le due indagini della procura, c'è ancora in ballo un secondo finone, si concentrarono sul Ciapi di Palermo, uno dei più grossi enti di formazione e sui grandi eventi organizzati dalla regione siciliana. Del sistema Giacchetto avrebbero fatto parte il presidente del Ciapi, l'avvocato Rigio e l'unigro, direttore oggi in pensione dell'Agenzia per l'impiego. E poi ci sarebbero stati i politici con cui si programmavano e si studiavano le strategie di sistema.